La coda è piena. Please put me in. Sì, 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 in squad matcha, in squad matcha. In squad matcha, raga! Credo. Ma anche questo piccone non è malvagio. Sbrang, sbrang, sbrang. Il buco nero sono stati live 17 ore, con una media di... 8.000. 6.000 come media. E un picco di quasi 19. Porca merda. Vai. Ci sono i veicoli, vi ricordo, eh? E se vado a Miao Miao? Potrebbe esserci un team a Miao Miao, ragazzi, eh? Fantastico gatto completamente ignorato da tutti. Troppo pericoloso. Ma qua c'è una tannica di benzina, aspetta un attimo. Ma lol? Non puoi lanciare così. Merda, ci sono le radio! Attenzione, 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 attenzione. Follia pura, ragazzi. C'è dell'ignoranza in questo Fortnite. Ma aspetta, sta pisciando carburante! Ma cosa fa? Aspetta, come si fa a fare carburante? Passo sinistro? Ah, ok. No, no, così ti pisciò addosso? No, 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 aspetta, no, no, così, no, così. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Mi dispiace, devo farlo. Devo farlo, devo farlo. Fisciò carburante. Non va più. Sono totalmente in... Doi, 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 doi. Easy. Easy, andiamo. È partita di ignoranza, io ve lo dico, raga. Doi, 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 doi. Grazie a tutti. Pannocchia? Ma sono nuovi tre? Sì. Grazie a tutti. Un secondo. Uno vi uno. Un secondo. Un secondo. Un secondo. Ok, easy. Pericoloso. Non c'è nessuno. Ok. Uno, due e tre. Vediamo come si fa benzina. Ok. Ok, ok, ok. Domanda, esplode se salto da qua? Ah, era un bot. Ah, lol. No, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sono bot. Sono bot? No, se sono bot gli ho ballato il loser, lol. No, non c'è nessuno, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Eh, guarda, fai benzina. Ok. qualche problema che fai tu ancora qua? andiamo? grazie, ah siamo già 1v1 ma sono ancora in solo i squad lol ciao 2 su 2 lol ciao